Furto al supermercato, segnalato un trentenne. San Marco, raccolta di materiale scolastico su iniziativa del gruppo parrocchiale. Rete assistenziale per le demenze al CEFPAS, specialisti ed esperti a confronto. Commemorazione di Michele Tripisciano a Palazzo Moncada. Nissa, l'opinione dei tifosi dopo le prime tre partite, un punto e zero gol. Ben trovati. La rapina di San Cataldo, i due indagati respingono le accuse. Hanno respinto l'accusa di avere rapinato e picchiato un loro amico, i san-cataldesi Michele Amico, 39 anni, e Giovanni Piazza, 52 anni, arrestati nei giorni scorsi dei carabinieri. Quando sono comparsi davanti al Gipsanti Bologna per l'interrogatorio, entrambi hanno sostenuto di avere solo dato un passaggio all'uomo, aggiungendo che quest'ultimo era completamente ubriaco. Secondo quanto sostenuto dai due indagati, la persona offesa non era nemmeno in grado di trovare la propria abitazione, e quindi lo hanno lasciato nella zona dove aveva parcheggiato la sua auto, affermando che successivamente si sarebbe inventato tutte le accuse relative alla rapina e al pestaggio subito. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sulla base della denuncia della vittima, i due indagati, lo scorso 1 settembre, avevano picchiato e rapinato l'uomo, rubandogli il portafogli dove custodiva i 980 euro incassati come pensione di accompagnamento per il figlio disabile. In base al racconto della vittima, i tre si stavano recando in auto a Canicattì, quando Amico, alla guida della vettura, ha arrestato la marcia per poi prendere una mazza dal cofano con il quale l'uomo è stato picchiato, oltre che preso a pugni da entrambi gli indagati, e Piazza, sempre secondo l'accusa, gli aveva sfilato il portafogli per rubargli il denaro. Per questa vicenda, Amico è detenuto in carcere e piazza agli arresti domiciliari. L'avvocato difensore Gianluca Amico presenterà il ricorso al tribunale del riesame per chiedere l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare disposta dal GIP. Denunciata violenza sessuale nell'ennese scatta il divieto di avvicinamento per un uomo nei confronti di una giovane. L'ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata eseguita dalla polizia. Misura del divieto di avvicinamento disposta dal GIP nei confronti di un uomo di Enna accusato di atti sessuali su una minore. La vicenda è venuta a galla a seguito della denuncia presentata dalla giovane vittima, la quale ha raccontato ai poliziotti della squadra mobile di Enna di essere stata costretta a subire gli atti sessuali da parte dell'indagato. Subito sono state avviate le indagini coordinate dalla procura ennese ed è stata disposta l'audizione protetta della ragazza, ascoltata in una delle stanze allestite per questi casi e con il supporto di una psicologa. Sulla base degli elementi raccolti la procura di Enna ha poi chiesto e ottenuto l'applicazione del provvedimento cautelare. Ora si attende che venga chiusa l'inchiesta. Furto al supermercato, segnalato un trentenne che era stato ripreso dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del negozio mentre nascondeva tre bottiglie di liquore nello zaino. Un giovane di 30 anni è stato denunciato a piede libero in procura per avere commesso un furto aggravato in un supermercato cittadino. Il fatto risale a lunedì scorso quando gli agenti sono intervenuti nell'esercizio commerciale di Viale Sicilia dopo una chiamata arrivata alla centrale operativa della Questura in cui veniva segnalato un furto. I poliziotti hanno subito identificato l'uomo il quale poco prima era stato immortalato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza mentre prendeva dagli scaffali tre bottiglie di liquori per poi nasconderle nello zaino che aveva con sé. A notare la manovra uno degli addetti alla sicurezza che stava osservando i monitor delle telecamere. Gli investigatori, nell'eseguire tutti i controlli del caso, hanno anche scoperto che il trentenne aveva con sé anche poco meno di due grammi di marijuana e quindi, oltre alla denuncia penale per il furto, è scattata pure la segnalazione come assuntore in prefettura per il possesso di stupefacenti per uso personale. E' di otto mesi la pena chiesta dalla procura per un commerciante nisseno, titolare di un negozio di elettrodomestici e altro, imputato in tribunale con l'accusa di avere violato le disposizioni del bonus su cultura previsto alcuni anni fa dal governo allora guidato da Matteo Renzi. Secondo l'accusa, l'uomo, difeso dagli avvocati Giuseppe Panepinto e Giuseppe Di Buono, avrebbe tenuto una condotta leggera, permettendo a parecchi ragazzi di acquistare smartphone o tablet con le somme stanziate per i giovani e che invece avrebbero dovuto essere utilizzate per l'acquisto di libri o di altro materiale didattico. Nel processo è parte civile l'avvocatura dello Stato con l'avvocato Giuseppe Laspina. Quest'ultimo ha chiesto il risarcimento dei danni per conto del Governo nazionale. Tra un mese si tornerà in aula per le conclusioni della difesa. Comune di Caltanissetta, bilancio partecipato, presentate 20 proposte progettuali. Sono 20 le proposte progettuali presentate per il bilancio partecipativo 2022, così come si legge nell'avviso pubblicato sul sito del Comune Nisseno. Tra queste una proposta progettuale con doppia imputazione alle aree tematiche e una arrivata fuori termine. La scadenza era quella delle ore 12 del 15 settembre. Nello specifico sono due le proposte per l'area tematica sport, 14 per la cultura, una per la cura e bellezza del centro storico, una per lo sviluppo economico occupazionale, una con doppia imputazione di aree tematica, cioè cultura e sviluppo economico occupazionale e una per la cultura fuori termine. Si tratta delle proposte, agape, famiglia e disabilità al centro. Senza confini riprendiamo a giocare insieme. Spazio ragazzi, il testo nel cassetto, food and art experience, seconda rassegna musicale, suonini tinere, pensiero stupendo, aperinissa, Anko Smith and Grit, percorsi di arte umana, to win in life than in sport per vincere nella vita poi nello sport, dal mito alla scena, un cinetto artistico su telaio, il merletto, sulle ali del successo, musicando e le vie dello Zolfo, ti racconto Caltanissetta, itinerari di legalità, gender equality leader, festival delle culture contro le mafie e pupi festival. Le 19 proposte che sono state presentate entro i termini dovranno ora passare al vaglio della commissione valutativa per il parere di fattibilità. La stessa ha a disposizione 20 giorni per esaminare le proposte progettuali, successivamente verranno comunicati progetti ammissibili, modalità e termini di votazione. San Michele Arcangelo e Caltanissetta, storia di una processione secolare, la devozione dei nisseni. Manca ormai una settimana alla festa del Santo Patrono, una celebrazione alla quale i nisseni sono molto legati, numerosi infatti fedeli che puntualmente accorrono per assistere o prendere parte direttamente alla processione. Una storia di una devozione per una città che inizia intorno al XVII secolo, così come racconta lo storico Enzo Falzone. In quell'anno tra il 1624 e il 1625 c'era la peste in Sicilia e ci furono dei cambiamenti in tutte le città perché alcune città vogliono riprendere i propri santi patroni che non lo erano. Così Santa Rosaria verrà confermata la patrona di Palermo, a sua volta Santa Lucia a Siracusa, a Santa Catania. Caltanissetta il nostro santo patrono era il Cristo Nero, il Signore della città. Grazie a un frate di Caltanissetta che all'epoca si chiamava Fra Vincenzo Gerratana ma poi sapete che nella storia dei frati cambiano nome, lui sarà poi Francesco Gerratana. L'8 maggio, che è la data delle apparizioni importanti, lui che si trovava a Caltanissetta nel secondo convento dei Cappuccini che è l'ex ospedale Vittorio Emanuele di Caltanissetta, lui incominciò a gridare proprio miracolo, miracolo e invitò proprio a tutti i suoi confratelli a vedere questo miracolo. Lui vide che nella porta della città dei Cappuccini un appestato e che un grande arcangelo, che poi appunto fu San Michele Arcangelo, che allontanava l'appestato e lo portava verso la grotta incontrata a calcare proprio di via Salemi. E così gli apparirà pure San Michele dove gli dirà che dovrà parlare con il magistrato dell'epoca e con l'arciprete e dovrà recarsi proprio in quel luogo dove è venuto il miracolo. E così andarono a constatare il miracolo. Quindi San Michele, protettore della città. Questo era il suo titolo. Poi nel 1627 venne chiamato il patrono, ma è il protettore che salva la città dalla pesta. Rispetto al passato, secondo lo storico ci sarebbero stati anche dei cambiamenti, non solo per la location, ma anche in relazione alla frequenza con cui il simulacro veniva portato in processione. La statualigna realizzata dallo scultore Livolsi. E Stefano Livolsi sarà quello che farà la statua. Lui stava facendo un angelo custode. E quando gli dissero i fratti Cappuccini che volevano l'arcangelo San Michele, l'arcangelo proprio San Michele lo trasformò. Quindi mise il diavolo sotto i piedi. Naturalmente, se vediamo l'immagine è ben diversa da altri, perché altri San Michele che ci sono. Alcuni hanno la spada o la bilangia e cose varie. Il nostro San Michele porta nella mano sinistra la chiave della città, perché appunto per dire che è il patrono. E poi c'è questa langia che viene invilzata proprio al diavolo e il piede che schiaccia proprio la testa. Dietro alle spalle c'è uno scrigno, una cassaforte, diciamo, che si apre, uno sportellino, dove furono trovati dei documenti dell'epoca di Mongata e poi circa 25 anni fa furono riaperte, furono messi altri documenti della città. Ma molte preghiere di protezione per la città di Caltainsetta. San Marco raccolta di materiale scolastico su iniziativa del gruppo parrocchiale. Quaderni, fogli, protocollo, penne e pennarelli, matite, album da disegno, gomme da cancellare, tempera matite, astucci, zaini, diari e tutto ciò che può servire tra i banchi di scuola per affrontare il nuovo anno scolastico appena iniziato, potrà essere utile per aiutare le famiglie in difficoltà. La parrocchia di San Marco Evangelista, infatti, su iniziativa del gruppo catechistico CR parrocchiale, organizza per questo weekend, cioè nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre 2022, una raccolta di materiale scolastico. Spesse volte questa raccolta è stata estesa anche a vari gruppi della stessa parrocchia, ma principalmente alle famiglie della parrocchia. Sarà questa giornata particolare, questo evento sarà il giorno 24 e 25 settembre, dove chi vuole può portare questo materiale che poi sarà donato a questi enti tipo la Caritas, tipo Sant'Agara, la parrocchia Sant'Agara con la sua associazione o altre associazioni che si appoggiano a noi per questo tipo di iniziativa. L'invito è rivolto a tutti quanti perché penso che questo spirito solidale che noi abbiamo, specialmente il Nisseno, da alcuni anni sta veramente incrementando questo stile nuovo di mentalità, di apertura verso gli altri. E quindi questo potrebbe essere anche un'altra prova di solidarietà che ogni Nisseno vuole contibire portando proprio questi articoli riguardanti la scuola. Rete assistenziale per le demenze al CEFPAS, specialisti ed esperti a confronto. Manca una rete vera per l'assistenza di questi pazienti. Quindi lo scopo di questa giornata è proprio questo, mettere insieme competenze diverse, società scientifiche diverse per poter costruire qualcosa da portare al tavolo tecnico regionale e poter quindi scrivere un PDTA che poi ci aiuterebbe a gestire meglio questi pazienti in tutte le province della Sicilia. Il PDTA è un percorso diagnostico terapeutico assistenziale, cioè è un documento che indirizza i medici ai giusti percorsi che i pazienti dovrebbero fare per una buona assistenza. Coinvolge i centri medici, quindi i CDCD che sono gli ambulatori, coinvolge i centri diurni che sono gestiti spesso dalle associazioni dei familiari e dovrebbe coinvolgere anche il territorio, nel senso che dovrebbe essere implementata una continuità tra ospedale e territorio, cosa che in realtà di fatto non esiste in Sicilia. Quello che racconta il docente dell'Università di Palermo, Tommaso Piccoli, uno dei responsabili scientifici del convegno, insieme allo psichiatra Dario Cannavò, è uno degli aspetti affrontati durante l'evento svoltosi al CEF Pass in occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer. Il convegno sul tema Rete Assistenziale per le Demenze è stato promosso dal CEF Pass in collaborazione con SINDEM, associazione autonoma aderente alla Società Italiana di Neurologie per le Demenze, l'Associazione Italiana di Psicogeriatria e l'Associazione Alzheimer Uniti Italia Ollus. È patrocinato dal Dipartimento di Biomedica, Neuroscienza e Diagnostica avanzata dell'Università di Palermo. Durante le due sessioni, una mattutina e l'altra pomeridiana, si sono confrontati specialisti, esperti, ma anche rappresentanti delle associazioni scientifiche e dei familiari dei pazienti per discutere anche del Piano Nazionale delle Demenze o ancora delle innovative strategie farmacologiche nel trattamento dell'Alzheimer, oltre al concetto di Rete. L'obiettivo è sensibilizzare da una parte la società, dall'altra gli operatori del servizio sanitario regionale a occuparsi delle persone malate di Alzheimer. Tante volte questo impegno non c'è stato come ci sarebbe dovuto essere e alcune reti che sono state costituite in altre regioni qua stentano a partire. Quindi noi ci facciamo promotori di questa azione di diffusione del sapere in questo settore appunto perché si possa costruire una rete ottimale che possa far conoscere tutto ciò che si può fare per queste persone. Covid-32 positivi nel Nisseno, 15 a Gela, 12 a Caltanissetta. Sono 21.190 i nuovi casi di Covid registrati in tutta Italia, di cui 1.059 solo in Sicilia, secondo l'ultimo bollettino rilasciato dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda la provincia di Caltanissetta, sono 32 i nuovi pazienti positivi al SARS-CoV-2 in base all'ultimo aggiornamento comunicato dall'ASP nissena. Nel dettaglio 15 sono di Gela, 12 di Caltanissetta, 3 di Mussomeli, 1 di Santa Caterina e 1 di Vallelunga. Ricoverato in degenza ordinaria un paziente di San Cataldo, mentre sono 122 le persone guarite dal Covid. 30 di Caltanissetta, 27 di Gela, 13 di Mussomeli, 12 di San Cataldo, 11 di Butera, 4 di Niscemi, 4 di Serra di Falco, 3 di Mazzarino, 3 di Riesi, 3 di Sommatino, 2 di Milena, 2 di Montedoro, 2 di Resuttano, 2 di Santa Caterina, 2 di Vallelunga, 1 di Campofranco e 1 di Delia. Commemorazione di Michele Tripisciano, nisseno illustre a Palazzo Moncada. Ieri è stato reso omaggio a Michele Tripisciano, nel giorno del suo anniversario di morte avvenuta il 21 settembre del 1931, artista nisseno riconosciuto come uno dei maggiori protagonisti della scultura siciliana. La manifestazione, inizialmente prevista nell'omonima piazzetta Causa Maltempo, si è svolta presso Palazzo Moncada, con i saluti iniziali di padre Alessandro Rovello e alla presenza della professoressa Rosanna Zaffuto Rovello, del professore Calogero Barba e del presidente della Proloco Luca Micichè, che ha introdotto la serata con un discorso commemorativo sull'artista, ponendo successivamente una corona di alloro su un'allegoria di Caltanissetta. Grazie al lavoro infaticabile dei ragazzi della Proloco, la manifestazione si è conclusa con la scoperta di alcuni quadri inediti di Michele Tripisciano, che avvalorano la grandezza dell'artista nisseno. Stamani, grazie al tempo clemente su incarico della Proloco, il Comitato Santa Croce ha deposto la corona di alloro alla base del busto commemorativo dell'artista, che sorge al centro della piazzetta, a lui inditolata esattamente 109 anni fa. Anche quest'anno non potevamo che ricordare il grande concittadino Michele Tripisciano, il grande scultore nisseno, che ha fatto della sua arte un simbolo anche della nostra città in tutta quanta l'Italia. Come ogni anno non possiamo fare a meno come Proloco che ricordare questo grande artista, in collaborazione anche con l'amministrazione comunale, il Comitato di quartiere Santa Croce, e i nostri soci che comunque si sono spesi davvero tantissimo per questo evento. Sport, calcio, Nissa, l'opinione dei tifosi dopo le prime tre partite, un punto e zero gol. Ieri, allo stadio Palmintelli, è andato in scena il recupero della seconda giornata di eccellenza a Gironeat tra la Nissa e l'Oratorio San Ciro e Giorgio Marineo. La partita si è conclusa con il risultato a reti inviolate di 0 a 0, ma con due espulsioni per parte che hanno movimentato la partita. La Nissa ha provato a fare la partita, ma la compagine palermitana ha tenuto botta fino alla fine. Per i biancoscudati di Mister Settineri si tratta del primo punto conquistato in campionato dopo le due sconvitte subite in trasferta da Casteldaccia e Agragas. Dato da non sottovalutare, l'attacco ancora a bocca asciutta, con la casella dei gol in campionato ancora a zero. Abbiamo ascoltato i tifosi prima del match, dove ci hanno raccontato i loro pensieri, umori e sensazioni per la stagione in corso. Quest'anno la città è nuova, dopo questi ingressi di queste nuove persone, tra cui il presidente Iacona, ci aspettiamo un campionato tranquillo. Noi speriamo di fare il prossimo anno l'estato di categoria, ma quest'anno il rassetto della squadra deve essere sistemato. Si aspettano tanto, perché la Nissa è blasonata nella regione Sicilia e quindi sai benissimo che dalla Nissa si aspettano tutti tanto. Però è una società costruita tra l'atletico Nissa e Nissa, abbiamo fatto la fusione e quindi siamo in costruzione. Però diciamo che la società è bella solida e ci saranno molte aspettative. Diciamo che ci aspettiamo, quando meno, di vedere una squadra viva del gioco e poi i risultati pian piano penso che arriveranno. È una squadra ricostruita, quindi vogliosa di fare bene, con una nuova dirigenza, a capo un'ottima persona, l'avvocato Iacona. E speriamo che incominci il lavoro svolto fino ad adesso a dare i suoi frutti. Ci auguriamo sicuramente che sarà un bel campionato, nonostante le prime due partite con partenza falsa, però stiamo rispondendo bene. Siamo ritornati al Palmindelli come vecchi tempi, presto ritorneremo al Pian del Lago. Speriamo che anche la squadra si comporti adesso bene cominciando a fare punti. È tutto, vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità. Grazie per l'attenzione. Appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì il tempo sull'Italia continua a mantenersi piuttosto stabile, salvo qualche disturbo ancora possibile sull'estremo sud. Ma attenzione perché poi a fine giornata si avvicinerà una perturbazione atlantica che poi in vista del weekend porterà un netto peggioramento, soprattutto al centro nord. Vediamo più nel dettaglio la mappa della nuvolosità che vede un'Italia a sgombra da nuvole, qualche addensamento all'estremo sud, proprio sulla Sicilia orientale, mentre vedete questo ammasso nuvoloso che è la perturbazione atlantica di cui vi parlavo, che poi tenderà ad avvicinarsi al nostro paese. Più nel dettaglio anche del focus delle precipitazioni, qualche disturbo sulle isole maggiori, soprattutto sulla Sicilia orientale, a tratti anche sulle coste pugliesi, mentre la perturbazione di cui parlavo si raggiungerà rapidamente poi nel corso della notte e nella giornata di sabato le regioni del nord Italia. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta sul nostro paese nel corso di venerdì, sole protagonista al centro nord, anche su buona parte del sud, mentre sulla Sicilia più orientale ci sarà l'occasione per qualche pioggia, così come a tratti sulle coste pugliesi. Temperature piuttosto gradevole di giorno, ma valori sempre frizzanti al mattino. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Tribi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, Romano, Corso Vittorio Emanuele Servizio notturno, Missana, Viale Conte e Testa Secca